Salgono i casi di contagio da Covid-19 in Campania. Nella giornata di ieri registrati 4.065 casi positivi su 23.840 tamponi effettuati. Cresce la tensione anche nei comuni del Napoletano. Ieri sera il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato una serie di nuove ordinanze restrittive per incrementare le misure destinate al contrasto all'epidemia. Si attendono quindi nuove zone russe nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità. Nel comune di Torre del Greco ieri certificati 38 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 1 ospedalizzato e 37 in forma sintomatica. Attestati anche due decessi classe 1951 e 1948. Salgono quindi ad 11 i decessi nella seconda ondata della pandemia. Boom di contagi nel comune di Castellammare. Si contano 89 cittadini contagiati nelle ultime 24 ore. Focolai in una residenza sanitaria assistenziale dove sono risultati positivi 43 ospiti su 65 e 15 operatori sanitari. I pazienti sono stati isolati e al momento nessuno d'esta preoccupazione per le condizioni di salute. Diventa nuovamente pesante il bilancio dei nuovi positivi per la città di Castellammare di Stabbia. In questo momento l'attenzione è rivolta però all'ospedale San Leonardo, unico punto di riferimento, di un comprensore enorme e una grossa difficoltà e a ciò che sta accadendo all'interno della residenza sanitaria assistenziale denominata Oasi San Francesco, ha fermato il sindaco Gaetano Cimmino. Mini lockdown a Torra Annunziata, vista la crescita esponenziale di positività al Covid-19, il sindaco Ascione ha deciso di chiudere i luoghi della Movid. In primis via Gino Alfani, la famosa curva, meta preferita, specie nei fini settimana, di migliaia di giovani che si ritrovano per trascorrere piacevoli serate con gli amici, ma anche la villa comunale e la spiaggia.